Si rafforza l'organico del canicati calcio, soprattutto in porta. Oltre a Mattias Funari, già conosciuto e apprezzato portiere titolare, la società bianco-rossa del presidente Sandro Giglia ha chiuso l'accordo per la prossima stagione sportiva con l'atleta Momo Dramme. Classe 96, originario del Gambia, l'estremo difensore ha giocato nella scorsa stagione nel Due Torri in Serie D. Con lui il reparto difensivo può contare, insieme a Funari, su due portieri esperti di prima fascia. Ma non è finita qui. Il canicati calcio ha chiuso positivamente la trattativa con Samuele Di Paola, assicurandosi le sue prestazioni per la prossima stagione sportiva. Classe 99, Di Paola è un portiere tra i migliori giovani nel suo ruolo. Ha giocato nella scorsa stagione nel Castelbuono in eccellenza. Con il suo arrivo, insieme a Funari e Dramme, il parco portiere adesso è completo e molto competitivo. Manca un mese all'inizio dei campionati di eccellenza e ieri la Lega Sicola ha diffuso la composizione dei due gironi del massimo campionato regionale. Il canicati calcio è stato inserito nel girone A, assieme ad Alba Alcamo, Atletico Campofranco, Castelbuono, Città di Casteldaccia, Cus Palermo, Dattilo, Camarath, Licata, Marsala, Mazzara, Morreale e Mussomeli, Nuova Città di Caccamo, Parmo, Valle e Profavara. Come si può notare nella lista, manca il Raffadari che non si è iscritto al campionato di eccellenza, dove invece è stato ripescato il Camarath di Renato Maggio. Dopo aver inseguito la promozione e averla raggiunta tramite i play-off, il Raffadari che si era affidato all'esperto mister Angelo Bognanni, ora rimasto senza panchina e senza lavoro, vanifica gli sforzi fatti sul campo. In eccellenza quindi vedremo il Camarath. Per gli agrigentini è una sorta di novità, visto che la richiesta di pescaggio arrivano dopo un campionato anonimo di promozione. Intanto oggi all'esseneto di agrigento è prevista la gara amichevole tra il Canicati di Mister Sebi Catania e l'Agragas di Lello di Napoli. Infine domani sera alle 20.30 in Piazza Dante a Canicati si terrà la presentazione ufficiale della squadra bianco-rossa con la presenza di tutti gli atleti del mister dell'intero staff tecnico parteciperanno anche ai massimi vertici dirigenziali.